raffaele cavaliere iniziazioni alle costellazioni familiari una chiave per la vita in germania da più di 30 anni il dottor bert hellinger propone come metodo di guarigione le costellazioni familiari sistemiche il suo metodo viene insegnato e praticato in tutto il mondo e anche in italia si sta diffondendo con rapidità secondo le osservazioni di hellinger le dinamiche comportamentali del singolo componente di una famiglia dipendono oltre che dalle caratteristiche personali dalle influenze degli altri componenti della famiglia anche dall'eredità lasciata dagli antenati certamente hanno importanza il fattore educativo il contesto ambientale sociale ma su tutto ciò emerge con prepotenza il rapporto dell'individuo con la madre con il padre per riequilibrare le relazioni conflittuali presenti nell'individuo è necessario ricomporre gli ordini dell'amore poiché la coscienza individuale dei singoli risponde al senso dell'appartenenza ed è condizionata dalla gerarchia naturale rispettata in famiglia dell'amore poiché la coscienza di un'amore poiché la coscienza di un'amore poiché la coscienza di un'amore poiché la coscienza